Hanno portato in strada il loro dissenso, lo hanno argomentato e lo hanno urlato. Erano in 2000 a Policori in mattinata a manifestare contro il possibile arrivo delle trivelle nel Marionio. C'erano le associazioni ambientaliste, c'erano le parrocchie, i semplici cittadini, c'erano le tre regioni che si affacciano sulla porzione di mare interessata, Puglia, Calabria e Basilicata. C'erano i sindaci, alcuni, non tutti. Di certo le rappresentanze dei comuni di Taranto, Galato, Negallipoli, come si vede da queste foto dell'ufficio stampa di quest'ultimo. Per il resto, l'assenza degli altri primi cittadini e quella della provincia di Lecce è stata, ai noi, è evidente. È vero infatti che le quattro richieste di prospezione sismica sui fondali non riguardano direttamente la regione Puglia, ma lo specchio d'acqua è lo stesso e le coste salentine sono troppo vicine ai luoghi individuate per i sondaggi. Le indagini a cui mirano le compagnie petrolifere Shell e Appening Energy hanno già ottenuto lo che dal Ministero dell'Ambiente dureranno sei settimane. Servono a indagare le caratteristiche delle rocce e dei terreni del fondale marino e che le multinazionali del loro nero non si stanno muovendo alla cieca. Già da tempo estraggono greggio dalla pancia della Val d'Agri e sanno che la bolla che lo contiene probabilmente si estende fino al Marionio. Il rischio, dunque, è più che concreto e fa il paio con quello che si preannuncia nell'Adriatico, dove, di fronte a Brindisienni, estrae da tempo petrolio dal campo Aquila e sempre lì altri due permessi di ricerca sono stati già accordati alla Northern Petroleum. Chi ha sfilato a Policora ha ben in mente cosa potrebbe accadere in un Salento assediato da entrambe le parti. Il corteo, che ha attraversato gran parte della città, è terminato al Pareraclea, dove, dopo gli interventi di studiosi e associazioni e istituzioni, i rappresentanti provinciali, regionali e comunali intervenuti hanno sottoscritto un protocollo di intesa contro le trivellazioni. Una contrarietà netta e a priori, indipendentemente dalle miglie e dalla costa indicate nella richiesta da parte delle compagnie petrolifere. Il Marionio non si tocca, né può essere considerato strumento di arricchimento, di profitto per pochi e a scapito di ogni logica ambientale, soprattutto affettiva per la nostra comunità cittadina, ha rimarcato, tra gli altri, il sindaco di Gallipoli, Francesco Enrico.